Ma che diavolo ti prende? Scusami. Cristo, cerchiamo di ragionare, no? Ah, sì, ragionare. Vuoi dire... Grazie, ciao, non chiamarmi, ti chiamo io. Oh, insomma, lo sai che sono sposato. Non è che non te l'ho detto, no? Noi due eravamo d'accordo. Ma d'accordo su cosa? Che era una buona occasione a non perdere. Avanti, basta, siamo grandi, su. Che cosa vorresti dire? Ah, quanto lo fai difficile. Non è vero? Sei tu che la fai troppo facile. Non hai pensato neanche per un momento a quello che provavo io. No, no, cazzate, tu le conosci le regole. Ma quali regole? Senti, Alex, tu mi piaci. E se non avessi un'altra donna, forse sarebbe come voi tu. Ma non è così. Ti prego, non giustificarti, diventi così ridicolo. Giuro che se mi dicessi vaffanculo ti rispetterei di più. Va bene, allora vaffanculo. E' t brasile, ias. Noi. 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 Grazie.